Nanna, quanti figli ho fatto? Guarda qua che succede Dimmi i numeri Guarda questa altra Allora 400, 150, 200, 200 E guardate, 400 200, 200, 200 400, 1800, 1900 E' 42 Bravo, adesso suona Andrea Guarda Vedi Ricky, guarda l'orologio che mi sta spuntando il 12 Guarda l'orologio che mi sta spuntando il 12 No, perché adesso vanno avanti Poi quando finito questo spettacolino ritorna le cose Adesso c'è la sfidata di personaggio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.